Sono stabili le condizioni di Giuseppe Santoro, 29 anni, di Taranto e di Salvatore Marzo, 23enne di Maruggio, i due operai di una ditta di manutenzione rimasti feriti in un incendio che si è verificato nella raffineria Eni di Taranto ieri a seguito della rottura di una tubazione che trasporta greggio. Il primo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado al volto e al torace ed è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Perrino di Brindisi. Il secondo, che ha riportato ustioni alle gambe ed una ferita alla testa dopo essere caduto mentre si allontanava dal luogo dell'incendio, è stato invece ricoverato al policlinico di Bari con una prognosi di 40 giorni. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento interno dell'Eni e da quelli del comando provinciale che hanno anche bonificato un'area di circa 500 metri quadri. Oggi è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria locale nell'area della raffineria in cui si è verificato l'incidente. Il loro rapporto verrà consegnato in procura per verificare eventuali ipotesi di reato. Un mese fa, infatti, un altro operaio della stessa azienda riportò ustioni sul 15% del corpo in un incidente simile. Sulla vicenda è intervenuto il rappresentante della RSU Wilma dell'Eni di Taranto, Roberto Basile. Ci appare strano che nel giro di un mese si sia ripetuto un altro evitabile incidente, simile a quello registrato il 10 settembre e che ha coinvolto lo stesso soggetto contrattuale. Deve squillare come un forte e preoccupante campanello d'allarme, sia per tutti i soggetti interessati all'interno della raffineria tarantina, sia per i vertici dell'Eni.